Maria Noseda, io sono l'interprete incaricato di effettuare la traduzione della professoressa Martha Nussbaum che è con noi questa sera. Vorrei darvi il benvenuto a nome della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino e a nome ovviamente del Festival del Classico, ma anche a nome della casa editrice Il Mulino, presso la quale la professoressa Nussbaum ha pubblicato questo meraviglioso libro che io ho letto con tantissimo interesse, La Monarchia della Paura, che è uno dei moltissimi libri che la professoressa ha pubblicato nel corso della sua carriera. Non c'è bisogno di presentarvela. Devo fare un ulteriore ringraziamento a tutti i ragazzi del Liceo Classico Vivona di Roma, del Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino, del Liceo Classico Cavour di Torino, del Liceo Carlo Alberto di Novara, del Liceo Mamiani di Roma, del Liceo Italiano di Madrid, abbiamo anche loro in linea questa sera, del Liceo Gioberti di Torino, D'Azeglio di Torino e Einstein di Torino e degli altri licei che ci seguiranno. Naturalmente io non indugio ulteriormente la paura e il veleno della democrazia. Le emozioni sono importantissime, non devono suscitare incertezza ma speranza. La professoressa Nussbaum è una filosofa del diritto, si occupa di etica, diritti umani, di filosofia antica e di emozioni. E con gioia che do la parola a lei. The floor is yours, Professor Nussbaum. No, thank you very much. And hello, everyone. And especially hello to the all the students who are here. Very, very nice to to be in Italy with you today. I'm going to begin with a Greek tragedy about the founding of democracy, which has a lot to say, as we'll see about our current political moment. At the end of Aeschylus' Oresteia, two transformations take place in the city of Athens. One of these is famous, the other often neglected. In the famous transformation, the goddess Athena introduces legal institutions to replace and terminate the cycle of blood vengeance. Setting up a court of law with established procedures of evidence and argument and a jury selected by lot from the citizen body of Athens, she announces that blood guilt will now be settled by law rather than by the Furies, ancient goddesses of revenge. But the Furies are not simply dismissed. Instead, Athena persuades them to join the city, giving them a place of honor beneath the earth in recognition of their importance for the health of the city. Typically, Athena's move is understood to be a recognition that the legal system must incorporate and honor the retributive passions. These passions themselves remain unchanged. They simply have a new house built around them. The Furies agree to accept the constraints of law, but they retain an unchanged nature, dark and vindictive. That reading, however, ignores the second transformation, a transformation in the character of the Furies themselves. As the drama begins, the Furies are described as repulsive and horrifying. They're said to be black, disgusting. Their eyes are said to drip the hideous liquid. Apollo even says that they vomit up clots of blood that they've swallowed from their prey. They belong, he says, in some barbarian tyranny, where cruelty reigns. Nor, when they awaken, do the Furies give the lie to those grim descriptions. As the ghost of the murdered Clytemnestra calls them, they don't even speak, but they simply moan and whine, making animal noises. When they do begin to speak, their only words are, get him, get him, get him, get him, get him, get him, as close to a predator's hunting cry as the genre allows. As Clytemnestra says, in your dream you pursue your prey, and you bark like a hunting dog hot on the trail of blood. If the Furies are later given poetic speech, as of course the genre demands, were never to forget this initial characterization. What Aeschylus has done is to depict unbridled anger. It is obsessive, destructive, existing only to inflict pain and ill. Apollo's idea is that this rabid breed belongs somewhere else, surely not in a law-abiding democracy. Unchanged, these Furies could not be at the foundation of a legal system dedicated to the rule of law. You don't put wild dogs in a cage and come out with justice. But the Furies do not make the transition to democracy unchanged. Until quite late in the drama, there's still their bestial selves, threatening to disgorge their venom upon the land. Then, however, Athena persuades them to alter themselves so as to join her enterprise. Lull to repose the bitter force of your black wave of anger, she tells them. But of course that means a virtual change of identity, so bound up are they with anger's obsessive force. She offers them incentives to join the democracy, a place of honor beneath the earth, reverence from the citizens, but only if they adopt a new range of sentiments, substituting future-directed benevolence for retribution. Perhaps most fundamental of all, they must listen to the voice of persuasion. Well, they accept her offer, and they say that from now on they're going to express themselves with gentle-tempered intent. Each person, they declare, should give generously to each in what they call a mindset of common love. Not surprisingly, they're transformed physically in related ways. They apparently assume an erect posture for the procession that concludes the drama, and they receive crimson robes from a group of citizen escorts. They have become Athenians rather than beasts. Their very name has changed. They're now the Eumenides, which means the kindly ones, not the furies. This second transformation is just as significant as the first one. Indeed, it's crucial to the success of the first one. Aeschylus shows that a democratic legal order can't just put a cage around anger. It must fundamentally transform it from something hardly human, obsessive, bloodthirsty, to something fully human, accepting reasons, something that protects life rather than threatening it. The furies are still needed because this is an imperfect world, and there will always be crimes to be dealt with, but they are not wanted or needed in their original shape and form. They must become instruments of justice and human welfare. The city is liberated from the scourge of retributive anger, which produces civil war. In its place, the city gets forward-looking justice. Like modern democracies, the ancient Greek democracy had an anger problem. If you read the historians, you will see some things that are not unfamiliar. Individuals litigating obsessively against people they blame for having wronged them, groups blaming other groups for their lack of power, citizens blaming politicians and other elites for selling out the dearest values of the democracy. Other groups blaming foreign visitors or even women for their own political and personal woes. The anger that the Greeks and later the Romans knew all too well was an anger full of fear at one's own human vulnerability. The Roman philosopher Lucretius even says that all political anger is an outgrowth of fear of the terror of each human baby who comes into the world helpless and, unlike all the other animals, can do nothing on its own to get what it needs to stay alive. Lucretius says that as life goes on, vulnerability continues or even increases since the awareness of death hits us hard at some moment, making us realize that we are helpless with respect to the most important thing of all. This fear, he says, makes everything worse, leading to political ills that we'll come back to. But for now, let's focus on anger. The Greeks and Romans saw a lot of anger around them. But as classical scholar William Harris shows in a fine book called Restraining Rage, they did not embrace or valorize anger. They did not define manliness in terms of anger. And indeed, as with those theories, they tended to impute anger to women whom they saw as lacking in full adult rationality. However much they felt and expressed anger, they waged a cultural struggle against it, seeing it as destructive of human well-being and democratic institutions. The first word of Homer's Iliad is anger, the anger of Achilles that wrought thousandfold pains upon the Achaeans. And the Iliad's hopeful ending requires Achilles to give up his anger and to be reconciled with his enemy Priam, as both acknowledge the frailty of human life. I believe the Greeks and Romans are right. Anger is a poison to democratic politics. And it is all the worse when fueled by a lurking fear and sense of helplessness. I will conclude that we should resist anger in ourselves and in our political culture. That idea, however, is radical and evokes strong opposition, for anger with all its ugliness is a very popular emotion. Many people think it's impossible to care for justice without anger at injustice, and that anger should actually be encouraged as part of a transformative process. Many also believe that it's impossible for individuals to stand up for their own self-respect without anger, that someone who reacts to wombs and insults without anger is spineless and downtrodden. Nor are these ideas confined to the sphere of personal relations. The most popular position in the sphere of criminal justice today is what's called retributivism, namely the view that the law ought to punish aggressors in a way that expresses the the spirit of justified anger. And it's also very widely believed that successful challenges against great injustice need anger to make progress. Still, we may persist in our Aeschalian skepticism, remembering that recent years have seen three noble and successful freedom movements, all conducted in a spirit of non- anger. Those of Mohandas Gandhi, of Martin Luther King Jr., and of Nelson Mandela. Surely, people who stood up for their own self-respect and that of others, and who did not acquiesce in injustice. I'll now argue that a philosophical analysis of anger can help us support these philosophies of non-anger, showing why anger is fatally flawed from a normative viewpoint, sometimes incoherent, sometimes based on bad values, and especially poisonous when people use it to deflect attention from real problems that they feel powerless to solve. So my argument will have four parts. Part one, the roots of anger. Let's now return briefly to that baby whom Lucretius describes. Babies at birth don't have anger as such. Because anger requires causal thinking. Someone did something bad to me. Fairly soon, however, that idea creeps in. Those caretakers are not giving me what I desperately need. They did this to me. It's because of them that I'm cold, wet, and hungry. Experiences of being fed, held, and clothed quickly lead to expectations. Expectations, expectations to demands. Instinctual self-love makes us value our own survival and comfort. But the self is threatened by others when they don't do what we want and expect. Psychoanalyst Melanie Klein refers to this emotional reaction in infants as persecutory anxiety, since it is indeed fear, but coupled with an idea of a vague threat coming from outside. I would prefer to use simpler words and call it fear anger or fear blame. Well, if we were not helpless, we would just go get what we need. But since we are initially helpless, we have to rely on others. They don't always give us what we need, and then we lash out, blaming them. Protest and blame are positive in a sense. They construct an orderly, purposive universe in which I'm an agent making demands. My life is valuable. Things ought to be arranged so that I'm happy and my needs are met. That hasn't happened, so someone must be blamed. But retributive anger all too often infects the thought of blame and often even of punishment. The people we blame ought to suffer for what they have done. Psychologist Paul Bloom has shown that retributive thinking appears very early in the lives of infants, even before they begin to use language. Infants show delight when they see the so-called bad person who in his experiments is a puppet who has snatched something away from another puppet get beaten with a stick. Bloom calls this an early sense of justice. I prefer to call it the internal furies that inhabit us all and that are not securely connected to real justice. The infant's idea looks like a version of the lex talionis, an eye for an eye. It's not hard to imagine that the crude idea of proportional payback has an early and maybe an evolutionary origin. It's a leap to call this an idea of justice, and I think we should not make that leap. Part two, defining anger. Well, let's now fast forward to human adulthood. People now experience and express not just primitive anger, but full-fledged anger. But what is anger? Philosophers love definitions which are useful to clear our heads, in this case helping us begin to separate the potentially promising parts of anger from those that lead to nothing but trouble. And back to the Greeks. Let's talk about Aristotle's definition, since more or less all the definitions of anger in the Western philosophical tradition are modeled on it. According to Aristotle, anger is a response to a significant damage to something or someone that one cares about and a damage that the angry person believes to have been wrongfully inflicted. Aristotle adds that although anger is painful, it also contains within itself a pleasant hope for payback, for retribution. So we have significant damage pertaining to one's own values or circle of cares and wrongfulness. These two elements seem both true and uncontroversial. These parts of anger can go wrong in specific and local ways. We might be wrong about who did the bad thing or how significant it was, or whether it was done wrongfully rather than just accidentally. But these parts are often on target. More controversial, surely, is the idea that the angry person always wants some type of payback and that this is a conceptual part of what anger itself is. All the Western philosophers who talk about anger include this wish as a conceptual element in anger. But we need to pause because that's not obvious. Now we should understand that the wish for payback can be a very subtle wish. The angry person doesn't need to wish to go out and take revenge herself. She may simply want the law to punish the wrongdoer or even some type of divine justice. Or, even more subtly, she may simply want that wrongdoer's life to go very, very badly in the future, hoping, for example, that that second marriage of your betraying spouse will be a dismal failure. I think if we understand the wish in this broad way, Aristotle is right. Anger does contain a sort of strike back tendency, and that's what differentiates it from compassionate grieving. Contemporary psychologists who study anger empirically agree with Aristotle in seeing this double movement in it from pain to hope. We should understand, however, that these two parts of anger might come apart. We can feel outrage at the wrongfulness of an act or an unjust state of affairs without wanting payback for the wrong done to us. I'll be arguing that the outrage part is personally and socially valuable when our beliefs are correct. We need to recognize wrongful acts and protest them, expressing our concern for the violation of an important norm. And there's one species of anger, I believe, that is free of the retributive wish. Its entire content is how outrageous that is. Something must be done about that. I call this transition anger, because it expresses a protest, but it turns and faces forward. It gets to work finding solutions, rather than dwelling on the infliction of retrospective pain. Think about parents and children. Parents often feel that their children have acted wrongfully, and they are outraged. They want to protest the wrong and somehow to hold the child accountable. But they usually avoid retributive payback. They rarely think, at least today, now you have to suffer for what you have done, as if that by itself was a fitting response. Instead, they ask themselves, what kind of response will produce future improvement in the child? Usually this will not be a painful payback, and it certainly won't obey the lex talionis, an eye for an eye. If their child hits a playmate, parents do not hit their child as if that were what you deserve. Instead, they choose strategies that are firm enough to get the child's attention, and it express clearly that and how what the child did was wrong. And they give positive suggestions for the future. So loving parents typically have the outrage part of anger without the payback part, where their own children are concerned because they love them. This will be a clue to my positive proposal for democratic society, where I fear we do not always love our fellow citizens. Retributive wishes, however, are a deep part of human nature, fostered by some parts of the major religions and by many societal cultures, although they have also been denounced by religious and social radicals from Jesus and the Buddha to Mohandas Gandhi. They may have served us well in a pre-social condition deterring aggression, but the idea that pain is made good or assuaged by pain, though extremely widespread, is a deceptive fiction. Killing the killer does not restore the dead to life, although the demand for capital punishment is endorsed by many families of victims as if it did somehow bring the person back or set things to rights. Pain for pain is a very easy idea, but it's a false lure, creating more pain instead of rectifying the problem. As Gandhi said, an eye for an eye makes the whole world blind. This wish for payback arises in all sorts of situations. Take divorce. Betrayed spouses often feel entitled to seek punitive divorce settlements and child custody arrangements as if that somehow were their due and as if punitive payback somehow restored the balance of power or rescued their damaged dignity. But in real life, the function of payback is usually far less benign. Two people become locked in the struggle for pain, focused on the past, and often inflicting great collateral damage on children and on friends and family. In the end, the betrayer may get what's called his comeuppance. But what does that achieve? Typically, it does not improve the litigant's life going forward. By focusing obsessively on the past, she may become closed to new possibilities, and she often becomes bitter and unpleasant. Retaliation is ugly, as Aeschylus shows in his Portrait of the Furies. What the payback seeker wants is future happiness and self-respect. Payback by itself never achieves that, and it usually makes the world a lot worse for all. But wait a minute. We all agree, don't we, that wrongful acts, if they are serious enough, should be punished, and punishment is usually painful. Yes, we should agree that punishment is often useful, but why and how. We might see punishment in a backward-looking spirit as payback for what has already happened. That's the attitude I've been criticizing, and it does great social harm, leading to a gruesome pile-on-the-misery strategy, as if it really compensated for the damages of crime. But there's a better attitude, more like that of the good parent in my example. We might try to look to the future and produce a better society, using punishment to express the value we attach to human life and safety, to deter other people from committing a similar offense, and we hope deterring that individual from committing another offense, or at least incapacitating them. If we think this way, however, trying to improve the future, we probably will have a lot of other thoughts before we get to punishment. Like that good parent, we will remember that people don't do wrong nearly as often if they're basically loved and respected, if they have enough to eat, if they get a decent education, if they have health care, if they have a future full of employment prospects. So thinking about crime should lead us in the direction of designing a society in which people have fewer incentives to commit crime. When they do, despite our best efforts, we should take that seriously for the sake of the future. Now, there's one more part to Aristotle's definition. He says that anger is always a response, not to any old kind of damage, but only to the type that he calls a down ranking. Now, this doesn't seem to be true all the time. I can get angry at wrongs done to others without thinking of them as a down ranking of me. Later philosophers hold on to other parts of Aristotle's definition, but they drop that restriction. Anger can be a response to any wrongful act, not only a status injury. Still, let's persist with Aristotle's idea for a minute, because it does cover surprisingly many cases of anger, as empirical research shows. The status idea is important because I think it's the one case where payback really gives you what you want. If what you are focused on is not the murder or the theft or the rape itself, but only the way it has affected your relative status in the social hierarchy, then by pushing the wrongdoer relatively lower, you do automatically push yourself relatively higher. And if relative status is the only thing you care about, then you don't need to worry that the problems caused by the real crime have not been addressed. If you're thinking only about relative status then, payback sort of makes sense. Many people do think this way, and this may help explain why payback is so popular and why people don't quickly conclude that it's a false diversion from the task of fixing the future. But what's wrong with the status idea? Focus on relative status was common in ancient Greece. Indeed, it explained Achilles' anger when Agamemnon insulted him by taking his woman away. Focus on status was common too at the founding of the United States, as Lin-Manuel Miranda's brilliant musical Hamilton reminds us all. Elaborate codes of honor and status led indeed to constant status anxiety and to many duels responding to purported insults. What's wrong with the obsession with status, as I think Miranda shows quite brilliantly, is that life is not all about reputation. It's about more substantial things, love, justice, work, family. We all know people today who are obsessed with what other people think of who constantly scan their social media to see who's been insulting them. Social media encourage this obsession as people diss each other, count the number of likes some post of theirs has garnered, and so on. As we live more and more in the lives of others, more and more parts of our lives come in for rating up or down. But isn't this obsession with status a sign of insecurity? And doesn't it really increase insecurity, since the person who scours the world for signs of disfavor is sure to find many? Equally important, isn't the obsession with status a diversion for more important values? Now notice that the obsession with status is totally different from a focus on human dignity or self respect, because dignity belongs to everyone and people are equal in dignity. So dignity does not establish a hierarchy, and nobody would be tempted to suppose that inflicting humiliation on someone else would boost their human dignity. Dignity, unlike reputation, is equal and inalienable. So to summarize, we've seen three ways anger can lead us astray. First, the obvious errors. Anger can be misguided and guide us badly if it's based on wrong information about who did what to whom, about whether the bad act was really done wrongfully rather than just by accident, and also if it's based on a confused sense of importance. Since we're often hasty when we're angry, these errors occur often. Second, the status error. We also go wrong, I claim, if we think relative status is hugely important, and we focus on that to the exclusion of other things. Third, the payback error. Finally, we very often go wrong when we permit deeply ingrained retributive thoughts to take over, making us think that pain wipes out pain, death, murder, and so on. In short, whenever we think that inflicting pain in the present fixes the past, we go wrong because that thought is a kind of irrational, magical thinking, and it distracts us from the future, which we can change and frequently should. All of these errors are common, not least in the political life. Part three, anger, child of fear. Anger is a distinct emotion with distinctive thoughts. It looks manly and important, not at all timorous. Nonetheless, I say it is an offspring of fear. How and why? First, if we were not plagued by great vulnerability, we would probably never get angry. Lucretius imagines his gods as beings out in space who are perfect and complete beyond our world, and he says, they are not enslaved by gratitude, nor are they tainted by anger. If anger is a response to significant damage inflicted by someone else on you or someone or something you care about, then a person who is complete, who cannot be damaged, has no room for anger. Judeo-Christian pictures of divine anger imagine God as loving humans and therefore as deeply vulnerable to human misdeeds. Some moral reformers have urged us to become like Lucretius' gods. The Greek and Roman Stoics thought we should learn not to care at all about what they called the goods of fortune, that is, anything outside our own control that can be damaged. Then we would lose fear. And in the bargain, we also lose anger. Gandhi's views were very similar to those of the Stoics. The problem, however, is that in losing fear, we also lose love. There's nothing that makes us more vulnerable than loving other people or loving a country. So much can go wrong. In one half year, the Roman philosopher and politician Cicero lost the two things he said that he loved most in the world when his daughter Tullia died in childbirth and the Roman Republic was collapsing into tyranny. Even though his friends thought that his grief was excessive and they urged him to be a proper Stoic, he told his best friend Atticus that he could not stop grieving and what's more, he didn't think he ought to. Taking the measure of love fully means suffering. So the solution that wipes out both fear and anger with one stroke is not one that we should accept. Keeping love means keeping fear. And though this doesn't necessarily mean keeping anger, it makes it a lot harder to win the struggle with anger. Fear is not only a necessary precondition for anger, it's also a poison to anger or a kind of accelerant feeding the three errors. When we're afraid, we jump to conclusions, lashing out before we thought carefully about the who and the how. When problems are complex and their causes poorly understood, fear often leads us to pin blame on individuals or groups conducting witch hunts rather than pausing to figure things out. Fear also feeds the obsession with relative status. When people feel bigger than others, they think they can't be destroyed. But when people protect their vulnerable ego by thoughts of status, they can easily be goaded into anger since life is full of insults. And fear also feeds the focus on payback since vulnerable people think that getting back at wrongdoers or even destroying them is a way of reestablishing lost control and dignity. Lucretius even traces all war to fear. He omits the obvious possibility that war might be caused by a reasonable reaction to a genuine threat to our safety and our values. So I think we should not accept his analysis fully. I'm not a pacifist, nor were my primary heroes of non-anger Martin Luther King Jr. and Nelson Mandela. Gandhi, I think, was wrong to endorse total pacifism. But even just wars, as I believe the Second World War was, are often marred by zeal for the blood of the aggressor. And one could certainly argue that episodes such as the bombing of Dresden were motivated by payback rather than sound policy. Great leaders understand that we need to retain and fortify the spirit of determined protest against wrongdoing without comforting ourselves with retributive thinking. The brilliant speech in which Winston Churchill said, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. He refers to danger, to struggle, and to a willingness to accept great pain in order to preserve democratic values. It's conspicuous for its utter lack of retributivism. Churchill does not say that destroying the Germans will remove a threat to freedom. Freedom is beautiful, and we must be prepared to suffer for it. But we must focus on defending what we love, rather than disgorging our venom on the land, as East Coast puts it. Churchill's speech is of a piece with the best allied efforts to rebuild Germany after the war. And we can now see the wisdom of that course, as Germany is among our most valuable allies. Fourth and last part, protests without payback. Well, what's the alternative? We can keep the spirit of determined protest against injustice while letting go of the empty fantasy of payback. This forward looking strategy includes protesting wrongdoing when it occurs, but not imputing wrongdoing where there is instead the murky thicket of the global economy to manage outsourcing and automation to reconcile with our citizens' welfare. Never seizing hold of blame as a substitute for a feeling of powerlessness, but also not yielding to despair. So to conclude, I want to study just one example of protest without without payback. The ideas of Martin Luther King Jr., who contributed so much to my society's ongoing struggle with racism and its search for justice. King always said that anger had a limited usefulness because it brought people to his protest movement rather than sitting home in despair. But once they got there, the anger he said had to be purified and crystallized, what he meant by those two words is that people must give up the payback wish and yet keep the spirit of justified protest. Instead of retribution, they need hope and faith in the possibility of justice. In an essay written in 1959, he says that the struggle for racial integration will continue to encounter obstacles and that these obstacles can be met in two very different ways. And I'll quote now, one is the development of a wholesome social organization to resist with effective firm measures any efforts to impede progress. The other is a confused, anger-motivated drive to strike back violently to inflict damage. Primarily, it seeks to cause injury to retaliate for wrongful suffering. It is punitive, not radical or constructive. King insisted constantly that his approach did not mean acquiescing in injustice. There's still an urgent demand. There's still a protest against unjust conditions in which the protester takes great risks with his or her body in what King called direct action. Still, the protestors focus must turn to the future that all must work to create together with hope and with faith in the possibility of justice. So King, in short, favors and exemplifies what I've called transition anger, the protest part of anger without the payback. But to see this better, let's briefly study the sequence of emotions in his I have a dream speech. Now King begins indeed with a summons to anger. He points to the wrongful injuries of racism, which have failed to fulfill the nation's implicit promises of equality. 100 years after Lincoln's Emancipation Proclamation, he says, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. The next move King makes is highly significant. Instead of demonizing white Americans, he calmly compares them to people who have defaulted on a financial obligation. America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. So this begins the shift to what I've called transition anger, because it makes us turn to think ahead in non-retributive ways. The essential question is not how whites can be humiliated, but how can this debt be paid? And in the financial metaphor, the thought of destroying the debtor is not likely to be central. The future now takes over, as King focuses on a time in which all may join together in pursuing justice and honoring obligations. But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. No mention again of torment or payback, only of determination to ensure the protection of civil rights at last. King reminds his audience that the moment is urgent and that there is a danger of anger spilling over, that he repudiates that behavior in advance. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force, which was a term that he had borrowed from Gandhi. So the payback is reconceived as the vindication of civil rights, a process that unites black and white in the quest for freedom and justice. Everyone will benefit. As many white people already recognize, he says, their freedom is inextricably bound to our freedom. King next repudiates a despair that could lead to the abandonment of effort. And it's at this point that the most famous section of the speech, the I have a dream part, takes flight. And of course, this dream is not one of retributive punishment, but one of a prophetic dream of equality, liberty, and brotherhood. In pointed terms, King invites the African-American members of his audience to imagine brotherhood, even with their former tormentors. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, the state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words interposition and nullification, one day, right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. There is indeed outrage in this speech, and this outrage summons up a vision of rectification, which might easily have taken a retributive form. But King gets to work right away, reshaping retributivism into work and hope. For how, sanely and really, could injustice be made good by retributive payback? The oppressor's pain and lowering do not make the afflicted free. Only an intelligent and imaginative effort toward justice can do that. It might seem strange to compare King to Aeschylus, but it's really not strange at all, given King's vast learning in philosophy and literature. He's basically saying the same thing. Democracy must give up the empty and destructive thought of payback and move toward a future of legal justice and human well-being. King's opponents portrayed his stance as weak. Malcolm X said sarcastically that it was like some coffee that had so much milk poured into it that it had gotten white and cold and didn't even taste like coffee. But that was wrong. King's stance is strong, not weak. He resists one of the most powerful of human impulses, the retributive impulse for the sake of the future. One of the trickiest problems in politics is to persist in a determined search for solutions without letting fear deflect us onto the track of anger's errors. The idea that Aeschylus and King share is that democratic citizens should face with courage the problems and, yes, the outrageous injustices that we encounter in political and social life. Lashing out in anger and fear does not solve the problem. Instead, it leads, as it did in both Athens and Rome, to a spiral of retributive violence. Lucretius tells a grim tale of human anger and fear run wild. He imagines a world not all that different from his own, in which insecurity leads to acts of aggression which do not quiet the insecurity. At the time, he wrote, the Roman Republic was imploding, and insecurity mounting everywhere would shortly give way to tyranny. In an effort to quiet fear, he imagines, people get more and more aggressive, until they think up a new way to inflict maximum damage on their enemies, putting wild beasts to work in the military. They even tried out bulls in the service of war. They practiced letting wild boars loose against their enemies. They even used fierce lions as an advance guard, equipped with a special force of armed and ferocious trainers to hold them in check and keep them in harness. It was no use. The lions, hot with blood, broke ranks wildly, trampled the troops, tossing their mane. Then he goes on for about 30 lines describing the terrible carnage that these animals inflict. Then he pulls back. Did this really happen, he says? Well, maybe it happened in some other world, out in space. And what, he says, did these fictional people wish to accomplish? To inflict great pain on their enemies, even if they would perish in the process themselves. Lucretius' point is that our retributive emotions are those wild beasts. People may think anger powerful, but it always gets out of hand and turns back on us. And yet worse, half the time, people don't even care. They're so deeply sunk in retributive thinking that they prefer to accomplish nothing so long as they make those people suffer. His grim science fiction fantasy reminds us that we'll always defeat ourselves, so long as we let ourselves be governed by fear, anger, and the politics of blame. There is a better alternative. Aeschylus knew it, and King both knew and lived it, and indeed died for it. Making a future of justice and well-being is hard. It requires self-examination, personal risk, searching critical arguments, and uncertain initiatives to make common cause with opponents in a spirit of hope and what we could call rational faith. It's a difficult goal, but it's that goal that I'm recommending for both individuals and institutions. Now we need to make that a reality. Thank you very much. I greatly look forward to your questions. Well, thank you very much, Professor Nussbaum. And I have a series of questions here coming from from our college students. And in particular, there are lots of students who have followed you tonight during your lecture. And there's one from the high school for humanities, Cavour from Turin. How have you chosen the series of potential schools of hope that can help to make the role of fear less relevant in society? You include religion among them. Can't religion be considered both a symptom and a cause of fear, since we turn to a potential deity to seek protection and safety, and believers are led to live in fear, for example, by doctrines of punishments? Yeah, I entirely agree that religion is capable of leading in both the best direction and in the wrong direction. I was asking, so what I said in that chapter was that any search for hope has to be contextual. So I decided to look at my own city and ask what kind of things are supporting hope in Chicago these days. And of course, each of them could go wrong also. But I mean, even liberal education could be done very badly. But I was noting that for the black community in Chicago, religion is a huge source of hope. Economic conditions cannot be fixed quickly. And it will be a long time before the promise of racial justice is realized. Now with the pandemic, things are all the worse because those communities suffer greatly. And I find that the black churches have been an essential way of bringing people together around ideas of hope and brotherhood, rather than retribution. And that is really, I think it's a characteristic of the black churches in particular. If we think about this man, Dylann Roof, who murdered a bunch of people in an African American church in South Carolina, they came together to talk about forgiveness. They wanted to forgive him and move forward. And because, of course, that must have been the way their pastor had organized them from the very beginning. So I think I was talking about a particular case where religion is doing good things. And I talked also about my own Jewish synagogue that really talks a lot about hope and service and social welfare and so forth. So it's not any and every practice of religion, but it's very powerful because people are brought together in the same place. They have music and resonant texts that bring them together. Well, another question from another high school, Galileo Ferraris from Turin. Does the use of fear to guide the public opinion by political groups and governments cause democracy to degenerate into demagogy? It is the cause or is it the symptom of the current weakness of democracy? Well, it certainly is a powerful weapon for a demagogue who wants to get people to follow. Because, of course, fear can be used to say, you're all powerless, so turn yourself over to me and I'm going to take care of you. And, of course, in the process, punish your enemies. So the anger part is always linked to the fear part. I think, though, I mean, there is rational fear. As I said, you can't have love without having fear for threats to what you love. And in this pandemic time, we don't want to give up fear because if people are without fear, and I think this is a problem for a lot of young people in my country, they just think they can't be affected, that they're immortal and invulnerable. So they go on and they don't observe social distancing and they don't wear masks and so on. And then, of course, they infect other people who are much more vulnerable. So I think that there is a role for reasonable fear on the part of a decent leader, as I believe our new president is. So you just have to ask, is the fear based on science and sound reasoning? Or is it just an attempt to gain more power for the leader himself? And that's the distinction. Well, thank you. Thank you. I'm certainly able to stay a little longer to answer more of these wonderful questions if you want. Well, I have another one from a high school from Rome. The chapter about sexism and misogynie, we noticed that the prejudice and gender discrimination in the political context are always aiming at at, you know, hitting women and its men, indeed, you know, usually hitting women as they fear that women will overrule them. What does it tell us instead about the relationship of envy that women have towards each other? Can this also be considered an attitude of subordination that arises from pure envy? Can it be included among the components of the toxic mixture you mentioned at the beginning? Well, I think there's a lot of sociological evidence that men are brought up, on the whole, to valorize anger in themselves and to associate anger with manliness. Women, not so much. So there's a great and we can understand why men react with anger more often, perhaps. And the reason that they react with anger is often because women suddenly are moving into jobs that men think are their jobs. And the fact is that women are competing with men. There's not a limitless number of jobs. You can't simply double the number of places in universities or the number of jobs in the workplace. And so then there's a kind of envy on the side of the men. They feel I've failed to get a job or I failed to get into university because of those women who should not be there. They should be at home doing what they ought to do. There's also, of course, a corresponding, I think this is what you're asking, a pathological reaction on the part of women at times, namely that when women feel abused and victimized, I think then there's a kind of victim anger that takes over. It's not so much in the monarchy of fear. I don't talk about this so much, but in my new book I do. And I think, you know, women who have been traumatized and sexually assaulted and so very often react by a wish to distraught. And that is not, it's understandable, but it's actually not socially or personally very helpful. So these are what are another philosopher, Lisa Tessman is called burdened virtues. She thinks that this retributive anger is a virtue, but it's a kind of tainted virtue. I don't even think it's a virtue. But anyway, we agree that victims often form emotions to survive that are not always the most helpful ones. Well, thank you. Thank you very much, Professor. It's eight o'clock sharp, and we don't want you to be late for all your engagement. We thank you most all heartedly for your absolutely fascinating lecture. And for the book, which I, as well as many others here in Italy have read with a great deal of interest, because it really pushes us to think, to ponder, to understand, because without understanding, every single action is really brought to nothing. So understanding the role of emotions, et cetera, is really paramount. And also, the way that you have been dealing with the concept of fear being used as a political weapon is particularly interesting right now, all of the world, not only in America. Well, thank you very much indeed, once more, on behalf of the Circulo delle Tori from Turin, on behalf of Il Molino, a publisher, and on behalf of the Festival del Classico, the Festival of Humanities. Thank you very much. Well, thank you very much. It's been a great pleasure to talk to everyone. And I only wish I were there in beautiful Italy to speak to all of you in person, but I wish you a very joyous holiday season. We'll be looking forward to having you with joy here in Italy. And happy Christmas and happy New Year to you as well. Thank you very much. Bye-bye. 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 Grazie a tutti voi. E allora, io mi appresto, dopo aver salutato la professoressa Nassbaum, a effettuare la traduzione della sua interessantissima conferenza intitolata Paura, Ira e Minaccia alla Democrazia. La professoressa dice, inizio con una tragedia greca sulla fondazione della democrazia e, come vedremo, è molto attinente al momento attuale. L'epilogo dell'Orestea di Eschilo vede due trasformazioni attuarsi nella città di Atene, una famosa, l'altra spesso trascurata. Nella trasformazione famosa, Atena introduce le istituzioni legali a sostituire e porre fine al ciclo di vendette sanguinose. Creare un tribunale legale che stabilisca sulla base del diritto una procedura basata su eventi probatori e su argomentazioni basate sul diritto e una giuria tirata a sorte fra i cittadini di Atene. E quindi nel farciò annuncia che i fatti di sangue verranno quindi composti d'ora in poi secondo la legge e non dalle furie che erano le antiche divinità della vendetta. Tuttavia, le furie non vengono semplicemente licenziate. Atena, al contrario, le convince a fare parte della città e assegna loro un posto d'onore, riconoscendo loro l'importanza che hanno nell'ambito del benessere della città. In senso classico, quindi, la mossa di Atena si intende come un riconoscimento che nell'ordinamento giuridico si debbano incorporare e onorare anche le passioni cosiddette retributive, quelle che si basano sulla vendetta. Queste stesse passioni rimangono immutate e semplicemente si costruisce intorno ad esse una nuova residenza. Le furie accettano così di agire secondo le limitazioni dettate dalla legge e tuttavia mantengono la loro natura oscura e vendicativa. Tuttavia, questa interpretazione ignora la seconda trasformazione, la trasformazione insita nel carattere stesso delle furie. All'inizio del dramma, le furie vengono descritte come esseri repellenti e orribili. Si dice siano nere e disgustose e dai loro occhi coli un liquido orrendo. Apollo arriva addirittura ad affermare che vomitino coaguli di sangue ingeriti dalle loro prede. Dice che appartengono ad una razza barbara e tiranna dove regna la crudeltà e non smentiscono questa cupa descrizione, neppure quando si risvegliano, come le definisce il fantasma di Clitennestra che fu assassinata, non parlano ma emettono semplicemente urla animalesche gemendo e piangendo. E quando parlano dicono solo prendilo, prendilo, come fosse il grido del predatore che caccia la sua preda. Allora, come dice Clitennestra, nel sogno si caccia la preda e si abbaia come un cane da caccia che segue il sentiero del sangue. Se poi alle furie viene concesso un discorso poetico più in là, proprio come richiesto dal genere del dramma, non bisogna comunque mai dimenticare questa loro caratterizzazione iniziale. Eschilo ha semplicemente descritto rabbia incontenibile, ossessiva e distruttiva e che esiste solamente per infliggere dolore e malessere. L'idea di Apollo è invece che questa razza selvaggia e rabbiosa appartenga ad un altrove e certo non a una democrazia rispettosa delle leggi. Senza cambiare, queste furie non avrebbero mai potuto avere a che fare con la fondazione di un ordinamento legale in una società impegnata a fare rispettare lo Stato di diritto. Non si possono quindi mettere in gabbia cani randaggi e poi dire che si stia facendo giustizia, ma le furie non lasciano intatta la transizione verso la democrazia. Fino a molto in là nella rappresentazione rimangono fedeli alla loro bestialità, continuano a minacciare e disversare il loro veleno sulla terra ovunque. Allora Atena le convince a modificarsi per potere anche esse fare parte della sua impresa. Concedetevi una pausa dall'aspra forza della vostra ondata di rabbia oscura, dice loro, ma certo ciò sta a significare un cambiamento virtuale di identità dal momento che sono così incrollabilmente legate alla forza ossessiva dell'ira. Le invita quindi ad abbracciare la democrazia, a occupare un posto d'onore addirittura e un posto estremamente di rispetto da parte dei cittadini, ma solo a condizione che adottino una serie di sentimenti diversi sostituendo la vendetta con la benevolenza futura. Forse, e ancora più profondamente di ogni altra cosa, debbono ascoltare la voce della persuasione. Loro accettano questa offerta e si esprimono con un intento acquiescente. Dichiarano che ciascuna darà generosamente all'altra quello che può, con in mente l'amore comune. Quindi non è sorprendente che vengano trasformate anche fisicamente in questa luce. Apparentemente quindi assumono una postura eretta nel corso della processione che conclude il dramma e ricevono vesti e cremesi da un gruppo di cittadini che le scorta. Sono divenute ateniesi e non più vestie. Anche il loro stesso nome viene cambiato. Ora si chiamano gentili e umenidi, non più furie. Questa seconda trasformazione è significativa quanto la prima. È davvero cruciale per il successo della prima trasformazione. Eschilo mostra che un ordinamento giuridico democratico non può semplicemente ingabbiare la rabbia retributiva e vendicativa, ma la deve fondamentalmente trasformare in un che di disumana ossessione e di sete di sangue, in qualcosa di umano, insomma, che accetti la ragione e in qualcosa che protegga e non minacci la vita. Le furie ci sono ancora. Il mondo è imperfetto e ci saranno sempre reati da dover redimere. e tuttavia non sono più accettabili o non possono esistere più nella loro forma primigenia. Devono divenire strumenti di giustizia e di benessere per l'umanità. La città viene quindi liberata dal flagello dell'ira vendicativa che produce conflitti. Invece la città ottiene giustizia lungimirante. Come le democrazie moderne, l'antica democrazia greca aveva il problema dell'ira. Leggete gli storici e troverete descrizioni tutt'altro che remote. Persone che litigano in modo ossessivo contro altri accusati di averli indotti in errore. Gruppi che accusano altri gruppi di mancanza di potere o cittadini che accusano politici famosi o altre élite di svendere i valori più fondanti della democrazia o altri gruppi ancora che accusano ospiti stranieri e anche le donne come causa delle proprie idee politiche o personali. L'ira che i greci e più tardi i romani dimostrano di conoscere così bene era una rabbia piena di paura della propria vulnerabilità di esseri umani. Il filosofo romano Lucrezio dice addirittura che l'ira per la politica sia una tracimazione della paura del terrore che caratterizza ciascun infante che nasce in un mondo e si trova senza capacità e che diversamente da tutte le altre specie animali non sa far nulla in modo indipendente per riuscire a rimanere in vita. Lucrezio nota anche che con il prosieguo della vita la vulnerabilità continua o addirittura aumenta poiché a un certo punto la consapevolezza della morte ci colpisce tutti pesantemente e fa sì che ci si renda conto della nostra totale vulnerabilità rispetto alla cosa più importante di tutte. Questa paura sostiene peggiora tutto portandoci a situazioni negative in politica alle quali siamo destinati a tornare. Tuttavia per il momento concentriamoci sull'ira. I greci e i romani erano usi all'ira ma come il raffinato studioso classico William Harris ci mostra nel suo prezioso libro Restraining Rage non accettavano o non valorizzavano la rabbia e in effetti attraverso le furie tendevano ad addossarla alle donne che vedevano come mancanti di razziocinio. Tuttavia nonostante provassero e esprimessero la rabbia lanciarono una battaglia culturale per sconfiggerla poiché la consideravano come elemento distruttivo del benessere umano e delle istituzioni democratiche. La prima parola dell'Iliade di Omero è proprio ira, l'ira di Achille che portò dolori a migliaia agli Achei. Questo epilogo è foriero di speranza nell'Iliade e presuppone che Achille rinunci all'ira e si riconcili con il suo nemico primo poiché entrambi riconoscono la fragilità della vita umana. Bene, c'è la convinzione da parte mia che sia i greci che i romani abbiano ragione. La rabbia avvelena la politica democratica ed è ancora peggio quando è alimentata da una paura nascosta ed ha un senso di impotenza. Concludo dicendo che dobbiamo porre resistenza all'ira sia quando ci tocca personalmente che nell'ambito della nostra cultura politica. Tuttavia questa è un'idea radicale che crea forte opposizione poiché la rabbia in tutta la sua stranezza è comunque un'emozione assai diffusa. Sono in molti, infatti, a pensare che sia impossibile occuparsi attivamente di giustizia senza arrabbiarsi per le ingiustizie e che l'ira dovrebbe anzi essere caldeggiata in quanto parte di un processo di trasformazione. Sono anche in molti a credere che sia impossibile che chiunque possa perorare il rispetto nei confronti di se stessi, cioè sappia farsi rispettare in altre parole, senza l'ira e che chiunque reagisca a malefatte ed insulti senza mostrare ira non abbia spina dorsale e possa quindi venire bellamente calpestato. Bene, queste idee non si limitano solo alla sfera dei rapporti personali. La posizione odierna più diffusa nel diritto penale è proprio il retributivismo, vale a dire che la legge deve punire l'aggressore in modo da incorporare lo spirito di un'ira giustificata. Ed esiste anche la diffusa convinzione che per poter vincere una grave ingiustizia sia necessaria la rabbia come elemento vincente. Possiamo anche continuare a sostenere uno scetticismo come quello che sosteneva Eschilo, ricordando che negli anni recenti ci sono stati tre nobili movimenti libertari che hanno avuto molto applauso e tutti guidati da uno spirito contrario all'ira. Quello del Mahatma Gandhi, quello di Martin Luther King Jr. e quello di Nelson Mandela. Sicuramente sono stati tre figure che hanno saputo perorare il rispetto per sé e per gli altri e che non si sono mai piegati all'ingiustizia. Ora, allora, vorrei discutere sul fatto che un'analisi filosofica dell'ira ci può venire in aiuto per sostenere quelle filosofie basate sull'assenza di ira e mostrando perché essa sia, da un punto di vista normativo, una mancanza fatale, talvolta incoerente e talvolta basantesi su valori negativi e specificatamente velenosa, se usata per distrarre l'attenzione dai problemi reali che si sentono incapaci di risolvere coloro che dovrebbero. Allora, parliamo di queste radici dell'ira, parliamo di collera e di idee di ingiustizia. Torniamo brevemente a quel neonato brillantemente descritto da Lucrezio. I neonati, come si sa, non provano ira come la intendiamo noi, perché l'ira richiede un pensiero causale. Qualcuno mi ha fatto qualcosa di male, ad esempio. Tuttavia, e abbastanza rapidamente, questa idea si insinua in noi crescendo. Chi è deputato alla mia assistenza non mi sta dando ciò di cui ho disperatamente bisogno, sembra dire il nostro neonato. Sono loro, quindi, i colpevoli. Colpa loro se ho freddo, se sono bagnato, se sono affamato. L'avere provato ad essere accudito, nutrito, tenuto in braccio, portano velocemente ad aspettative e le aspettative conducono a richieste. L'amore istintivo che abbiamo nei nostri stessi confronti ci fa assegnare valore alla nostra sopravvivenza e anche al nostro benessere. Tuttavia, se veniamo minacciati e ci sentiamo minacciati dal prossimo perché ci rendiamo conto che non sta facendo ciò che noi vogliamo, o che non sta soddisfacendo le nostre aspettative, quindi coloro che ci circondano ci ignorano, beh, sorge naturalmente un problema. E la psicoanalista Melanie Klein definisce queste reazioni emotive persecutorie nei lattanti e nei bimbi come ansia persecutoria, perché si tratta sì di paura, ma mista all'idea di una vaga minaccia che proviene dall'esterno. Io preferisco chiamarla paura rabbiosa o paura del biasimo. Se non ci sentissimo impotenti, ci procureremo ciò di cui noi necessitiamo, poiché almeno all'inizio della nostra vita da siamo completamente impotenti, dobbiamo quindi affidarci agli altri che non ci danno sempre ciò di cui noi abbiamo bisogno e quindi noi ci scateniamo liberamente nel poterli biasimare. In un certo senso, protestare e farsi sentire sono due azioni positive. Costruiscono un mondo in cui si abbia un ordinamento a seconda dello scopo da perseguire e di cui siamo agenti e anche sostanziatori di richieste. La mia vita vale, le cose dovrebbero essere fatte in modo che io sia felice e che i miei bisogni trovino soddisfazione. Se ciò non accade, ebbene, bisogna addossare la responsabilità a qualcuno. Tuttavia, la rabbia di tipo retributivo troppo spesso infesta il pensiero con il colpevolizzare e spesso addirittura con l'idea della punizione. Cioè, le persone che noi biasimiamo debbono secondo noi soffrire per ciò che hanno fatto. Lo psicologo Paul Bloom ha mostrato come il pensiero retributivo compaia assai presto nella vita dell'infante, anche prima che si inizi a far uso della lingua. I bimbi sono contentissimi quando vedono il famoso cattivo, per esempio una marionetta che ruba qualcosa a un'altra marionetta, e che quindi viene presa a bastonate. Bloom lo definisce un senso precoce di giustizia. Io preferisco definirlo come il fatto che le furie ci abitino tutti e che sicuramente non hanno nulla a che vedere con la giustizia. Questa idea infantile somiglia infatti moltissimo alla legge del taglione, al famoso occhio per occhio. Non è difficile immaginare che la mera idea del pagare in proporzione a ciò che si è perpetrato abbia un'origine primigenia e forse anche evoluzionistica. Chiamarla un'idea di giustizia è un bel azzardo, e io non credo sia proprio il caso di farlo qui. Però proviamo a definire l'ira. Facciamo ora un balzo nell'età adulta di un essere umano. Ora si sperimenta e si esprime non solo quell'ira primigenia, ma anche proprio l'ira nella sua interezza. Ma che cosa è l'ira in fondo? Ai filosofi ovviamente piace dare delle definizioni che siano utili a chiarirci le idee, e in questo caso a separare le parti potenzialmente costruttive della rabbia rispetto a quelle che non conducono a nulla, anzi, solo a problemi. E ritornando ai greci, parliamo della definizione aristotelica, poiché praticamente diciamo che tutte le definizioni di rabbia e di ira nel mondo filosofico occidentale sono ritagliate dalla sua. Secondo Aristotele, quindi, l'ira è una reazione a un danno significativo a qualcosa o qualcuno a cui si tiene. è un danno che la persona, vittima del danno stesso, ritiene le sia stato indebitamente perpetrato contro. Aristotele aggiunge quindi anche che, benché la rabbia sia dolorosa, contiene anche una piacevole speranza di riscatto o di retribuzione. Quindi, danno notevole che colpisce i nostri valori o circoli affettivi. E illiceità. Questi due elementi sembrano assolutamente incontrovertibili. Queste componenti dell'ira possono essere errate in modi specifici e magari localmente riscontrati. Possiamo, per esempio, esserci sbagliati nel determinare chi abbia perpetrato l'azione negativa o quanto fosse importante, se compiuta con illiceità invece che accidentalmente. E sembrano entrambi irraggiungibili, entrambi veri e incontrovertibili. Certo, è più controversa l'idea che la persona che mostri ira voglia un qualche tipo di ritorno e che ciò sia una parte concettuale di ciò che è l'ira stessa. Tutti i filosofi occidentali che parlano di ira includono questo desiderio come elemento concettuale. E comunque dobbiamo fare qui una pausa, poiché non è che tutto sia poi così ovvio. Dobbiamo capire che il desiderio di ritorsione, di retribuzione, può essere molto sottile. Vale a dire, chi prova ira o chi è arrabbiato non deve necessariamente vendicarsi da sé. Potrebbe anche solo desiderare che sia la legge a punire il malfattore o magari anche qualche tipo di giustizia divina. Oppure, ancora più sottilmente, potrebbe desiderare che la vita futura del malfattore vada male in futuro, sperando, ad esempio, che il secondo matrimonio del marito infedele vada a catafascio. Beh, cerco e credo che se ci sforziamo di capire il desiderio in questa sua ampia accezione, possiamo quindi dare ragione ad Aristotele. L'ira contiene una sorta di tendenza punitiva, vendicativa, e ciò costituisce la differenza rispetto al dolore compassionevole. Gli psicologi contemporanei che studiano la rabbia sono empiricamente d'accordo con Aristotele nel vedere questo doppio movimento. Da dolore si passa a speranza. Tuttavia, dovremmo capire che le due componenti della rabbia possono anche essere distinte. Possiamo provare estrema ira di fronte a un atto o a uno stato di cose ingiusto, senza per questo voler essere in qualche modo risarciti da chi o per ciò che c'è stato fatto, o da chi ha perpetrato questo dono. Direi che la parte che riguarda l'ira sia valida a livello personale e sociale, quando ciò in cui crediamo sia corretto. Dobbiamo riconoscere gli illeciti e protestare, esprimendo la nostra preoccupazione per la violazione di una norma importante. E credo vi sia una specie di ira che è avulsa dal desiderio di vendetta e che si possa riassumere nella sua interezza in c'è una specie di scandalo, bisogna fare qualcosa. Ecco, io definisco tutto ciò la rabbia transitiva, o transiente, perché esprime una protesta, ma sempre guardando avanti. Cioè si guarda alla soluzione, invece che rimanere concentrati sull'infliggere un dolore retrospettivo. Prendiamo genitori e figli. I genitori spesso hanno la sensazione che i figli abbiano compiuto un illecito e quindi si dicono scandalizzati. Vogliono protestare contro ciò che è stato fatto di errato e in qualche modo ritenerne la propria prole responsabile. Di solito evitano però una ritorsione vendicativa. Almeno oggi sono portati a non pensare in termini di adesso devi soffrire a causa di ciò che hai fatto, come se di per sé fosse una reazione adatta. Invece tendono a chiedersi quale sorta di reazione possa produrre un miglioramento futuro nel comportamento del proprio figlio o della propria figlia. in genere non si chiede un ritorno doloroso, quindi certo non si invoca la legge del taglione, non si dice occhio per occhio. Se il piccolo picchia il proprio compagno o compagna di giochi, i genitori non picchiano a loro volta il piccolo per impartire una lezione sulla base di ecco, vedi, questo è ciò che ti meriti. Invece sceglieranno strategie che sono sufficientemente ferme in modo tale da carpire l'attenzione del bimbo o della bimba e in modo tale da poter esprimere chiaramente che cosa sia stato fatto di errato. Dando suggerimenti positivi anche per il futuro, quindi i genitori che provano affetto nei confronti dei figli, in genere, provano la sensazione dello scandalo compiuto senza tuttavia imporre una ritorsione proprio perché amano i loro figli. Ecco, il punto di avvio della mia proposta, diciamo, per pervenire ad una società democratica, è una situazione in cui io temo che non si amino sempre i propri concittadini. Bene, tuttavia, insiti nella natura umana sono quei desideri retributivi corroborati da alcune delle principali religioni per certi aspetti e da molte culture laiche per altri, benché denunciati da radicali religiosi e sociali quali Gesù, Buddha e Gandhi. Allora, possono esserci stati utili in situazioni presociali come deterrenti alle aggressioni, ma l'idea che dal dolore venga il bene e sia alleviato questo bene dal dolore, anche se estremamente diffusa, è una deludente finzione. Uccidere l'assassino non riporta in vita il cadavere, anche se la richiesta di pena di morte è in questo momento sostenuta da molte famiglie delle vittime di omicidio, almeno nel mio paese, quasi che in una certa misura si ristabilisse un certo equilibrio uccidendo il perpetratore del delitto. Allora, dolore chiama dolore, è un'idea semplice, ma fittizia, e crea più dolore invece che risolvere il problema. E come disse il Mahatma Gandhi, occhio per occhio, finirà per accecare tutto il mondo. La voglia di ritorsione esiste in tutte le situazioni. Prendiamo il divorzio. I coniugi traditi spesso si sentono in diritto di volere composizioni punitive delle proprie vertenze e accordi di custodia dei figli, per esempio, quasi che fosse loro dovuto e quasi che una ritorsione punitiva potesse riportare un equilibrio di forze e ridare dignità a chi l'ha persa. Nella vita reale, tuttavia, la funzione della ritorsione di solito è assai meno benigna. Due rimangono intrappolati nella lotta dolorosa, si riporta tutto indietro nel tempo, e spesso ci si infligge una serie di enormi danni collaterali, non solo a se stessi, ma ai propri figli, ai propri amici, ai propri parenti. Alla fine, diciamo che chi tradisce può anche ricevere la propria dose di punizione, ma poi, alla fine, a che serve? Il tutto, in genere, non migliora la vita di colui che litiga, e ponendo ossessivamente l'accento sul passato, si precludono nuove possibilità e spesso si diviene semplicemente più sgradevoli e inutilmente acrimoniosi. La vendetta è brutta, come ci mostra Eschilo nel suo ritratto delle furie. Chi vuole ritorsioni cerca felicità futura e rispetto per sé. La ritorsione, quindi, di per sé, non porta mai a ciò, anzi, in genere peggiora il mondo per tutti. Aspettiamo un minuto, però. Siamo tutti d'accordo nel considerare gli illeciti, qualora abbastanza gravi, come atti da punire. E la punizione è, in genere, dolorosa. Bene, dovremmo essere d'accordo nel dire che la punizione dovrebbe anche essere spesso utile. Ma perché e come? Allora, potremmo vedere la punizione in ambito retributivo proprio come ritorno rispetto a ciò che è accaduto. Ecco, l'atteggiamento che ho criticato e che provoca molta negatività nella società e che porta a una misera e terribile strategia nel mettere una situazione di miseria accanto a un'altra, altrettanto misera, quasi a compensazione del danno o del reato perpetrato. C'è una soluzione migliore, secondo me, più simile a quella adottata dal buon genitore. Ad esempio, potremmo guardare al futuro e produrre una società migliore usando una punizione per esprimere il valore che noi assegniamo alla vita umana e alla sicurezza perché sia un deterrente affinché non si commetta più lo stesso crimine e speriamo facendo in modo che quella persona non lo commetta più o almeno rendendo il perpetratore del crimine incapace di perpetrarlo ancora. Bene, se decidiamo di sposare questo punto di vista, vale a dire migliorare il nostro futuro, probabilmente possiamo arrivare a pensare molte altre cose prima di pensare concentrandoci solo sulla punizione. Proprio come fa il buon genitore, pensiamo che non si faccia sempre solo del male e che vi sia amore e rispetto a condizione che, ovviamente, si abbia cibo a sufficienza, istruzione e benessere fisico e che si possa intravedere una serie di possibilità in futuro. Quindi, pensare al reato ci deve portare anche nella direzione di creare una società in cui si abbiano meno incentivi nel commetterlo a questo reato e nell'eventualità in cui il reato venga perpetrato, nonostante gli sforzi per evitarlo, ebbene, questa cosa sia gestita in modo tale da poter conservare una prospettiva di miglioramento futuro. C'è ancora una parte della nostra discussione che riguarda la definizione di Aristotele. Dice che la rabbia parrebbe essere sempre una reazione non a un danno del passato, ma a una situazione in cui ci sentiamo sminuiti. Non sembra che sia sempre così. Diciamo che io posso provare rabbia per i misfatti degli altri senza pensare che loro sminuiscano me. In epoca più tarda, in effetti, altri filosofi si avvalgono della definizione aristotelica senza tener conto di questa restrizione. L'ira può essere una reazione a qualsivoglia misfatto, non solo a un'offesa dello status di qualcuno. Rifacciamoci comunque all'idea di Aristotele, poiché abbastanza sorprendentemente riguarda molti casi di ira, come sottolinea la ricerca empirica. L'idea riguardante la situazione dell'individuo, il suo status, come si dice, è importante perché costituisce, credo, l'eventualità in cui la ritorsione sortisce la soluzione che si vuole. Cioè, se il punto non è l'omicidio o il furto o la violenza sessuale, ma solo come il come abbia toccato il proprio status relativo rispetto al resto del mondo, allora, facendo precipitare il malfattore, automaticamente si eleva se stessi. E se lo stato relativo a sé è l'unica cosa di cui ci importa, non c'è motivo di preoccuparsi che i danni sottesi a causa di questo misfatto che si tratti di omicidio, di violenza o di furto, non porti a nulla di buono. Se si pensa solo al proprio stato, allora, la ritorsione ha senso. Molti la pensano così e ciò potrebbe costituire una spiegazione del perché la ritorsione sia così diffusa e del perché una via di uscita così insensata rispetto allo scopo di rendere un futuro migliore sia pensata da così tante persone. Ma che cosa non funziona nell'idea, nel concetto di status relativo? Nella Grecia antica era piuttosto comune concentrarsi sulla propria situazione, sul proprio stato. Ciò spiega l'ira di Achille, per esempio, quando Agamennone lo insulta portandogli via quella che lui considerava la sua donna. L'attenzione sulla situazione del singolo era piuttosto comune anche al momento della fondazione degli Stati Uniti. Vediamo bene quello che dice Hamilton oppure l'opera brillante di Lin-Manuel Miranda ce lo ricorda molto bene. In effetti i codici elaborati, e parlo dei codici d'onore di status, hanno condotto ad un costante stato d'ansia e a molti duelli per reagire a questi sedicenti insulti. la cosa errata relativa all'ossessione dello status è che la vita non è fatta solo di reputazione, ma si basa anche su cose assai più sostanziali, sull'amore, sulla giustizia, sul lavoro, sulla famiglia. Sappiamo tutti, quindi, che oggi molti di noi sono ossessionati da cosa gli altri pensino di noi e siamo costantemente quindi su internet per controllare chi ci stia insultando o ci abbia insultato. I social stimolano questa ossessione. Ci si insulta, si contano i likes, si controllano i posts e il plauso che si raccoglie, eccetera. Insomma, visto che viviamo sempre più secondo come gli altri ci vedono, sempre più le nostre vite sono soggette a giudizi, a valutazione, in positivo e in negativo. Ma questa ossessione non è forse un'indicazione di una situazione di insicurezza e non aumenta forse l'insicurezza poiché chi passa la vita a cercare disperatamente segni sfavorevoli poi alla fine per forza ne proverà alcuni. E ugualmente è importante questa ossessione sul proprio status. Non è un modo per sviare l'attenzione da valori assai più importanti. Ecco, chiediamoci queste cose. Noterete che l'ossessione relativa allo status è diversa e fa accento sulla dignità umana e sul rispetto di sé poiché la dignità appartiene a chiunque e tutti abbiamo uguale dignità. Quindi la dignità non è un modo per stabilire una gerarchia e nessuno può supporre che infliggendo umiliazioni a qualcuno si possa in qualche modo sminuire la mia dignità. Bene, la dignità diversamente dalla reputazione e dalla fama è uguale per tutti ed è inalienabile. Insomma, per riassumere, abbiamo considerato tre modi sulla cui base l'ira ci svia dalla cosiddetta retta via. Ci sono gli errori ovvi. Insomma, l'ira ci può guidare su un sentiero paludoso, ci può guidare in modo erroneo se per esempio noi ci basiamo su delle informazioni fallaci rispetto a chi ha fatto che cosa a chi o per esempio se questo atto negativo perpetrato sia stato davvero scientemente fatto con in mente di perpetrare un illecito oppure invece è stato semplicemente perpetrato accidentalmente e anche per esempio se ci si basa su una confusione rispetto a quello che è il senso di dare importanza alle cose dal momento che quando di solito noi siamo in preda dell'ira ovviamente siamo inclini a compiere questi errori perché agiamo sotto l'impulso dell'ira stessa poi c'è un'altra tipologia di errore quello imputabile come dicevo prima allo status beh insomma se noi continuiamo a pensare in termini di stato relativo solo a noi stessi e beh continueremo semplicemente a focalizzare la nostra attenzione su l'esclusione delle altre cose di tutto ciò che ci circonda ebbene questo errore è davvero un errore di capitale importanza da tenere in considerazione perché compiendo questo errore non si dà particolare valore a ciò che davvero è importante poi c'è la terza tipologia di errore l'errore che di fatto si basa sulla rivalsa allora infine noi molto spesso cosa facciamo ci comportiamo in modo illecito ci comportiamo male quando noi pensiamo semplicemente in termini retributivi cioè semplicemente in termini di vendetta per esempio quando pensiamo che chiodo schiaccia chiodo che il dolore può essere solo eliminato con il dolore che la morte richiede morte e chiama morte eccetera allora quando noi in effetti pensiamo che infliggere il dolore possa risolvere i problemi del passato bene sbagliata questa cosa totalmente irrazionale non possiamo basarci semplicemente su pensare e convincerci che per magia e per sulla base sulla scorta l'abbrivio del nostro pensiero possiamo risolvere questo tipo di problemi e che le situazioni ora per allora possano cambiare però diciamo che tutta questa tipologia di errori è parecchio comune e soprattutto direi nell'ambito della vita politica poi c'è un'altra considerazione da fare l'ira è proprio figlia della paura l'ira è un'emozione distinta quindi presuppone tutta una serie di pensieri distintivi allora di fatto che cosa succede possiamo dire che l'ira sia proprio figlia della paura ma come mai allora in prima battuta ovviamente noi non siamo mai stati toccati da grandi vulnerabilità e allora se non lo siamo mai stati probabilmente non avremmo mai provato la vera ira Lucrezio per esempio ha immaginato che gli dèi siano degli esseri che sono assolutamente perfetti completi al di là del nostro mondo e lui sosteneva non sono schiavi della gratitudine e non sono neppure colpiti dall'ira allora se l'ira è una reazione a un danno considerevole che viene inflitto da qualcun altro a noi o a qualcuno a qualcosa a cui noi teniamo in particolare allora la persona che è completa colui che non può essere soggetto a danno perché è forte non ha spazio per l'ira e di fatto per esempio le immagini giudeo-cristiane dell'ira divina presuppongono l'immaginazione che Dio che ama gli esseri umani come dire scateni la sua ira quando li vede così vulnerabili a cattivi comportamenti alcuni riformatori della morale ci hanno invitati a diventare proprio come gli dei di Lucrezio e gli stoici greci pensavano che dovessimo imparare per esempio a non curarci dei beni della fortuna dei beni terreni e quindi in effetti dovremmo essere scevri da tutto quello che noi non controlliamo e che potrebbe essere potenzialmente dannoso in quel modo ci saremmo liberati dalla paura in quel modo non avremmo più avuto la possibilità di essere vittimizzati dall'ira ebbene diciamo che ciò in cui credeva il Mahatma Gandhi è molto vicino all'atteggiamento e al comportamento degli stoici il problema comunque è che cosa succede se noi perdiamo la paura perdiamo anche l'amore allora ovviamente non c'è nulla che ci renda più vulnerabili che amare un'altra persona o amare il proprio paese nel senso che ci possono essere tutta una pletola di situazioni che non vanno nella direzione che noi speriamo allora pensate semplicemente in sei mesi Cicerone filosofo e politico romano perse le due cose a cui teneva più di tutte al mondo sua figlia Tuglia che morì in giovanissima età e la Repubblica Romana che purtroppo venne ad essere vittima della tirannia allora anche se tutti i suoi amici erano assolutamente convinti che questa sua dimostrazione di lutto e di dolore fosse eccessiva e insomma lo invitassero ad essere un vero e proprio stoico beh lui rispose al suo miglior amico Attico che non riusciva a non soffrire questo lutto e soprattutto che era assolutamente convinto che non dovesse far nulla per non soffrire ma quasi meritasse si meritasse di vivere questa sofferenza a pieno quindi come dire abbracciare l'amore significa anche dover abbracciare in pieno la sofferenza quindi la soluzione che prevede la scomparsa sia della paura che dell'ira così cancellandola come si farebbe con una parola scritta sulla lavagna beh non è una soluzione accettabile perché se vogliamo mantenere l'amore dobbiamo anche mantenere il sentimento e l'emozione della paura e anche se questo non significa necessariamente mantenere l'ira significa che è come dire molto più complicato vincere la battaglia contro l'ira nel senso che l'ira non è semplicemente una precondizione necessaria un presupposto necessario ma è anche proprio un avvelenamento che di fatto capita sull'abbrivio e sulla scorta di queste quattro tipologie di errori che noi siamo molto inclini a compiere e quindi per esempio quando siamo spaventati perveniamo immediatamente a delle conclusioni e non ci diamo il tempo di pensare attentamente per esempio a chi abbia fatto che cosa e perché questo atto sia stato perpetrato allora quando i problemi sono particolarmente complessi e le loro cause non sono altrettanto profondamente insomma sviscerate per esempio questo capita con i problemi di ordine economico beh la paura spesso ci porta a lamentare e accusare altri individui o gruppi e quindi ecco la caccia alle streghe invece che fermarci un attimo e cercare di capire perché le cose accadono la paura è anche un grande nutrimento dell'ossessione che noi possiamo avere e di cui soffrire proprio relativamente al nostro status alla nostra situazione quando per esempio ci sentiamo più grandi degli altri beh ecco noi pensiamo di essere invincibili indistruttibili però quando in effetti si protegge la vulnerabilità del nostro ego con dei pensieri particolarmente incentrati sulla nostra situazione di singoli ecco si può essere molto facilmente portati a essere irosi e quindi a essere vulnerabili dobbiamo quindi cercare in tutti i modi di ristabilire questo controllo e questa dignità che noi abbiamo perso per esempio Lucrezio cosa fa? Ritraspone tutte le guerre sotto forma di paura cioè omette l'ovvia possibilità che una guerra possa essere causata da una reazione ragionevole ad una vera e propria minaccia alla nostra sicurezza e ai nostri valori quindi dovremmo comunque non accettare questa sua analisi così pienamente a occhi chiusi io non sono per il pacifismo nel senso che non lo sono stati né i miei eroi primigeni e parlo di Martin Luther King Junior e di Nelson Mandela Gandhi invece credo abbia fatto un grande errore proprio abbracciando completamente l'idea del pacifismo ma ci sono anche le guerre giuste come quella che io penso sia la seconda guerra mondiale e naturalmente ci sono situazioni di aggressione ci sono situazioni in cui per esempio episodi come il bombardamento di Dresda sono stati assolutamente immotivabili se non come senso di vendetta bene i grandi leader capiscono che abbiamo bisogno di fortificare il nostro spirito dobbiamo protestare quando ci ritroviamo di fronte a un misfatto e naturalmente per esempio cito il discorso brillante di Churchill che disse non ho nulla da offrirvi se non il sangue lacrime e sudore ecco qui ci si riferisce piuttosto al pericolo alla lotta alla volontà di accettare un grande dolore per cercare di conservare i valori democratici ecco qui Churchill non dice che eliminare i nazisti rimuoverà la minaccia che viene perpetrata contro la libertà la libertà è meravigliosa e dobbiamo essere preparati a soffrire per la libertà ma dobbiamo anche focalizzare la nostra attenzione sulla difesa di ciò che noi amiamo invece che sversare appunto il nostro veleno sulla terra come dice Eschilo parlando delle furie insomma diciamo che il discorso di Churchill è un modo per riuscire a far sì che poi gli alleati possano in un secondo tempo ricostruire la Germania dopo la seconda guerra mondiale e in effetti vedete che a posteriori la Germania è diventata un alleato ecco io terminerei qui questo mio tentativo di traduzione di parte della conferenza della professoressa Nassbaum ha detto anche molte altre cose sfortunatamente il tempo è tiranno spero di esservi stato utile nel darvi qualche informazione in più di sfondo soprattutto per coloro di voi che non hanno la possibilità di comprendere al cento per cento l'inglese la professoressa ha dato anche delle risposte molto interessanti sulla religione su le domande che le sono state poste magari faremo in modo come circolo dei lettori o come appunto festival del classico di potervele dare in forma scritta per ora vi ringrazio di essere stati con noi e spero che sia stata una serata interessante grazie a voi grazie al circolo grazie al festival del classico e grazie al mulino editore buona serata grazie a tutti